Angelo Asciuto, Catania Mente, Radio Studi Centrale. Mister, partiamo da quello che l'è passato in mente quando ha capito che la gara si stava mettendo verso i rigori. Cosa ha provato e se ha rivissuto qualche momento che conosciamo bene? Io ormai, quando è sei anni che mi succede che quando c'è un calcio di rigore o mi capita di andare a rigori, automaticamente ripenso a quella maledetta serata. Quindi, però sono contento che abbiamo sfatato questa cosa. È un altro segnale che dobbiamo cogliere, così come il segnale che la squadra per tre volte ha recuperato da uno svantaggio. E oltretutto, subendo poi, cioè ogni volta che pareggiavamo non c'era neanche il tempo di esultare che risegnavano loro. E la squadra però dal punto di vista della prestazione mentale che è quella che in questo momento chiedo, è stata fantastica. Io non mi piace mai parlare dei singoli, però devo dire, devo fare un'eccezione per Curado, perché ha fatto 100 minuti domenica a Giuliano, era l'unico giocatore che ha fatto 100 minuti domenica a Giuliano e ne ha fatti altri 120 oggi, mettendosi totalmente a disposizione e facendo una grande partita. Quindi sapete che non amo parlare dei singoli, però a questo ragazzo un elogio glielo voglio fare per la disponibilità e il senso di appartenenza che ha dimostrato stasera. Mister, buonasera, Entoni Di Stefano, live Sicilia. Senta, intanto pare chiaro che è una squadra che il carattere lo sta formando adesso, probabilmente anche a immagine in quello che voleva anche lei del proprio allenatore. C'è qualche sbavatura probabilmente dietro, qualcosa ancora da dover rivedere? Perché insomma oggi il carattere c'è stato, la personalità anche, la lotta, il cuore anche, forse là dietro qualcosa può essere evitato. Allora, io senza nulla togliere la prestazione del Crotone che è stata una buonissima prestazione, però praticamente hanno avuto il 100% del realizzo perché hanno fatto questi due tiri con anche delle belle azioni e l'azione del caccio d'angolo. Quindi noi abbiamo preso gol con tre tiri e abbiamo preso tre gol. Quindi complimenti a loro perché mi piacerebbe anche a me che noi riuscissimo ad avere questa, diciamo, concretezza. Sbavature? No. Devo dire che siamo stati, come dire, puniti nelle poche situazioni che abbiamo concesso, no? Anche perché loro molto agivano di rimessa. Eravamo un po' noi che facevamo la partita e si sa che possiamo essere anche in certi momenti un po' sbilanciati. In realtà abbiamo preso solo una ripartenza su un caccio d'angolo dove siamo andati a saltare. Va bene che facciamo spesso gol su un caccio d'angolo, ma siamo andati tutti a saltare, è rimasto uno solo dietro e meno male che l'arbitro ha fischiato il fuorigioco. Diciamo che la tanta generosità non deve sfociare in poca lucidità. Io sono contento perché questo, come giustamente ha detto lei, quella secondo me è la base, sono le fondamenta di una qualsiasi squadra di calcio. Cioè lottare e credere nei risultati fino a che l'arbitro non fischia la fine. Però a volte occhio a essere troppo generosi perché si può rischiare di perdere un po' di lucidità e fare delle letture sbagliate come è successo nella situazione del caccio d'angolo. Buonasera mister, Simone Vicino, City Zone, il quotidiano di Sicilia. Mi vorrei soffermare su questo aspetto mentale perché mi sembra che questa squadra stia dimostrando per la terza gara di fila che una svolta c'è stata da quel punto di vista. In particolare su un aspetto, oggi il Catania è andato sotto tre volte sostanzialmente, per tre volte ha avuto la forza insomma di arrivare al pareggio, tra l'altro contro una squadra che in campionato in casa qui ha vinto. Quindi mi piacerebbe che analizzasse questo aspetto. E poi su un singolo De Luca, è un calciatore che aveva trovato poco spazio prima del suo arrivo, ma adesso sembra un calciatore assolutamente ritrovato come lo ha visto questa sera e come lo vede in generale. Sai che non amo parlare del singolo perché per me esiste solo il noi, siamo tutti sulla stessa barca e quindi per me esiste in particolar modo quello che un calciatore fa per la squadra e non quello che la squadra fa per il singolo calciatore. Però devo dire che sia domenica quando è entrato che stasera ha mandato dei bei segnali. Quindi è giocato sicuramente, come altri ragazzi, perché sto avendo tanti bei segnali dai giocatori. Ora, le ho detto a loro nel cerchio di centrocampo e lo dico anche a voi, perché domenica, al di là di quello che può sembrare la partita per la classifica, sarà sicuramente la partita più difficile che noi affronteremo da un punto di vista mentale e fisico da qui al 23 dicembre. Perché oltretutto il nuovo allenatore, io non amo mai giocare con le squadre dopo che hanno cambiato l'allenatore una settimana prima o due settimane prima, perché ovviamente c'è una reazione emotiva delle squadre, c'è qualcosa di diverso. Quindi noi rischiamo di affrontare una squadra che magari fino a dieci giorni fa era in un modo e noi ce la ritroveremo molto probabilmente una squadra trasformata. Ho chiesto a loro di compiere l'impresa domenica, perché questa partita di domenica è una partita che assume un valore inestimabile. Se noi vincessimo la gara di domenica sarebbe un bel segnale per tutti, e manderemmo un bel segnale a tutti. Quindi gli ho detto riposatevi, mangiate bene, fate vita sana, ma sono ragazzi che hanno giocato anche diversi in categorie superiori, quindi è un eccesso di raccomandazione, ma so già, l'hanno dimostrato, perché sono riuscito a fare un'altra partita anche stasera, 120 minuti, alta intensità, quindi vuol dire che sicuramente fanno le cose che devono fare. Però noi la partita determinante è quella di domenica. Se vinciamo quella di domenica, ripeto, assume un'importanza che voi non immaginate neanche quanto grande. Buonasera, Alessandro Vagliasindi, Repubblica Telecolor. Primo allenamento dal ritorno a Catania a martedì della partita prima con la Turris. Sono passati 15 giorni. Si aspettava di essere già a questo punto, con questa nuova avventura? Allora, mentalmente non pensavo così avanti, per quel poco che avevo visto della squadra e per quel poco che ho voluto vedere della squadra, perché non volevo essere condizionato da un inizio di campionato che sicuramente non era come ci si aspettava, no? Quindi non ho voluto essere condizionato, ho visto poco e niente, ho visto solo la gara di Cerignola perché sapevo che da lì a breve sarei arrivato, proprio perché volevo essere pulito totalmente nelle mie valutazioni, senza essere condizionato e per dare anche a loro la possibilità, se mai ci fosse stato qualcuno che è rimasto un po' più indietro, di dimostrarmi cosa volevo fare. Quindi dal punto di vista mentale sono contento, molto contento. Ho fatto presto, abbiamo fatto presto, sono stati bravi ragazzi a capirmi subito, perché per me le partite di calcio devono essere così, devono essere così. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, lì abbiamo dei margini importanti, perché anche stasera abbiamo sbagliato un po' troppo nei passaggi, abbiamo sbagliato un po' troppo nella rifinitura, quindi dobbiamo essere più, tornando al discorso della generosità e la lucidità, probabilmente sbagliamo perché siamo troppo generosi e magari facciamo le situazioni, fare le giocate con 180 battiti al minuto. Noi dobbiamo essere lì più lucidi perché ripulire, soprattutto una gara come oggi, conquistare palla e pulire subito la giocata è la cosa più importante per una squadra di calcio. Contento dei gol che abbiamo fatto perché con le sue posizioni, l'attacco alla profondità, ha fatto anche un'ottima partita a Mazzotta, ha fatto degli assist importanti, quindi vuol dire che anche il gioco stiamo cominciando a digerirlo. Buonasera mister Marco Zappalà per CityZone e Radio Amore. Le chiedo innanzitutto se ha avuto modo di sentire il presidente Rosario Pelligra in questi giorni, magari dopo le due vittorie, e poi il presidente in un viaggio di lavoro ha appena dichiarato che è stata una sofferenza ma il nostro Catania ha un cuore grande. Le chiedo quanto c'è di Lucarelli in questo cuore grande del Catania, perché prima non si vedeva. Questo lo dovete dire voi. Per me gli faccio fatica a dire auto-incensarmi. Quindi questo dovete dirlo voi perché avete assistito più di me al Catania prima e Catania dopo. Quindi questa è una valutazione vostra. con il presidente ci siamo sentiti giorno dopo che sono arrivato, perché lì c'è il fuso orario, quindi dobbiamo aspettare la mattina, diciamo, la mattina e poi mi ha chiamato dopo la prima vittoria con la Turris. quindi il mio rapporto, diciamo, quotidiano è con Vincenzo e comunque so che il presidente verrà giù a queste settimane, prima di Natale verrà giù e poi ci conosceremo di persone e di presenza. Buonasera, mister Daniele d'Alessandro, quotiano di Sicilia, complimenti per la vittoria. Le chiedo, torno a parlare di singoli, le chiedo un parere sulla prestazione di Zanellato, che piano piano sta crescendo di condizione... Siete belli perché mi dite, sappiamo che non va a parlare per i singoli, però... Sta crescendo di condizione, data anche l'emergenza che c'è nel reparto con gli infortuni di Pizzo, può essere un elemento determinante e poi con grande personalità, anche da come ha calciato il rigore. Zanellato, ragazzi, un giocatore che ha giocato in Serie B in piazze importanti, perché la Serie B la puoi fare in tante piazze e le piazze, come la C, un conto è farla a Catania, un conto per farla da lanta parte, non voglio dire nome, perché sennò in questi tempi c'è tanti fermalosi a giro, ma vale anche per la Serie B, no? Vale anche per la Serie B, un conto è farla a Ferrara, a Catania, un conto è farla... Quindi, per me è giocatore, per la categoria è giocatore importante, no? Credo che sia un giocatore, magari, che non è dinamico, che non è esplosivo e forse giocare a due, anziché magari da mezz'ala a inserirsi, può essere, diciamo, può essere per lui un aiuto. Tra l'altro, il modulo che facciamo l'abbiamo già fatto a Catania nel secondo anno, quando a gennaio facciamo il mercato con Curcio, Capanni, insomma 4231, qui l'abbiamo già fatto e poi l'ho portato pari pari l'anno dopo a Terni e ci ha dato delle soddisfazioni. Quindi noi dobbiamo trovare gli interpreti, non è che con questo modulo si vince al 100%, perché quello che conta è quello che avete detto prima, è sempre la prestazione mentale e la continuità di prestazione mentale, no? Per questo dico che la partita di domenica assume un valore incredibile, perché se diamo un altro segnale vuol dire che veramente abbiamo capito, abbiamo imboccato la strada giusta. Però sì, probabilmente ha due lì davanti, come chiedo io, magari piazzati davanti alla difesa, quindi con meno corsa, meno... probabilmente lì può dare... anche perché ha fatto 120 minuti e non ha avvertito il minimo problema fisico, quindi vuol dire che anche il giocatore si è allenato bene nonostante se non ha giocato ultimamente.